Un bilancio di crescita e di investimenti. Così ha definito il preventivo della Regione Marche, approvato alla fine di dicembre, il consigliere regionale Luca Serfilippi. Nonostante le difficoltà dovute all'aumento dei costi energetici e all'inflazione, sono stati garantiti, ha evidenziato, i servizi sanitari e sociali, investimenti record per la manutenzione contro il dissesto idrogeologico, piani di sviluppo e finanziamento per le imprese. Strategiche e significative le risorse per garantire l'implementazione di borse di studio per medici di medicina generale e medici specialisti, di cui c'è una grande carenza. In questo bilancio, inoltre, per la città di Fano, sono stati previsti investimenti importanti, grazie all'accoglimento di alcuni emendamenti. Uno di questi, a firma di Serfilippi, riguarda il centro Margherita, una goccia preziosa nel mare delle necessità che riguardano la malattia dell'Alzheimer. Si trattano di 40.000 euro che vanno a rinforzare il convenzionamento del centro Alzheimer Margherita, che è attualmente gestito dalla Labirinto e di proprietà della Fondazione Carifano e che come Regione abbiamo accreditato per 40 posti, ma solamente 18 erano convenzionati. Con questi 40.000 euro puntiamo, almeno nel 2023, ad aumentare i posti convenzionati e l'impegno mio e della Regione è quello di continuare, naturalmente, il potenziamento di questa struttura e quindi dei posti convenzionati, che sono un aiuto vero alle famiglie, agli operatori, visto che è una struttura d'eccellenza del nostro territorio che abbiamo. Purtroppo con il Covid hanno avuto dei grossi problemi, abbiamo avuto dei grossi problemi. Oggi, con la nuova azienda sanitaria territoriale, sono sicuro, anche in vista del nuovo piano soggio sanitario, cui questa struttura, come anche altre presenti nel territorio, devono essere potenziate. Questo è un primo importante intervento. Un altro intervento riguarda invece il settore dell'ambiente. Sì, abbiamo previsto 80.000 euro per la manutenzione del sentiero lungo il Metauro e il torrente Arzilla. Noi crediamo che questi siano due torrenti, soprattutto il Metauro, un fiume importante, dove senza andare ad alterare il clima, l'ambiente naturalistico che ha, che è bellissimo, ma deve essere vissuto. Quindi già attualmente molti bikers, anche a trekking, vengono effettuati, però manca una cartellonistica, manca una manutenzione regolamentata. Quindi noi puntiamo a coinvolgere le amministrazioni comunali, a partire dal Comune di Fano, col quale già ho iniziato ad interloquire, ma anche le associazioni, tutte le associazioni ambientaliste, ma anche tutti coloro che abitualmente utilizzano il sentiero, che non è minimamente attrezzato, non è segnalato e quindi è un volano anche per il turismo, credo. Quindi è un investimento importante che quest'anno vedrà la luce. Grazie ad un altro emendamento, presentato dal consigliere della Lega, viene anticipato anche il contributo di 50 mila euro che la Regione ha approvato per la Casa di Comunità di San Paolo al Vallato. Era previsto per il 2024, viene anticipato al 2023, visto che la casa, molto attesa da tutto il quartiere, verrà inaugurata nel mese di giugno. Tra gli investimenti la città attende con impazienza anche la realizzazione dell'ospice pediatrico all'ospedaletto dei bambini. L'ospice è in progettazione, proprio entro fine mese verrà dato l'incarico di progettazione preliminare per la struttura che verrà realizzata presso l'ex ospedaletto dei bambini di Fano e io credo che lì ci sia anche lo spazio per o un ospedale o una casa della salute, che sono dei servizi importanti che verranno utilizzati da parte dei cittadini fanesi insieme ai medici di medicina generale. Però vedremo la progettazione e che cosa ci dirà. Lo vedremo realizzato oppure l'inizio dei lavori entro il 2023? L'auspicio è che entro il 2023 venga appaltato e quindi ci sia un progetto almeno definitivo e poi credo che nel 2024, massimo 2025, dovremo iniziare i lavori e terminarli massimo nel 2026. Grazie. Grazie.